Bentornati a tutti nel canale del Doggo. Nel video di oggi parleremo di una serie da molti reputata come una delle migliori degli ultimi 15 anni. È chiaro che sia una affermazione molto audace e molti si possono chiedere ma è davvero così? E se sì, perché? Oggi quindi sono qui per rispondere a questa domanda, dando le mie impressioni a caldo dopo aver visto il finale ed analizzando le mille sfaccettature che l'intera saga ci propone, quindi tutte e due le serie. Attenzione perché non sono un critico cinematografico, quindi non parlerò di scelte registiche, fotografia o robe tecniche, ma semplicemente delle mie impressioni di pancia, delle emozioni che questa serie mi ha dato. Nel video comunque parlerò apertamente di vicende successe nell'intera saga, contando quindi sia Breaking Bad che Better Call Saul. Ciò vuol dire che contiene anche spoiler, quindi se non avete ancora visto le due serie, andate avanti a vostro rischio e pericolo. Iniziamo! Better Call Saul inizio da guardarlo solo e soltanto perché, sapendo fosse uno spin-off di Breaking Bad, speravo facesse rievocare in me le emozioni e la pelle d'oca e le delusioni provate nella serie principale. Ecco, diciamo che mi aspettavo più che altro un Breaking Bad 2, come molti che si approcciano a questa serie fanno. Infatti dopo aver visto i primi due episodi con una narrazione così lenta, pesante e piena di paroloni, l'ho lasciato perdere. Sì, diciamo che mi aspettavo più un... Ah, avvocati che si fanno esplodere, Jimmy che uccide criminale, un Walter Junior che spaccia. Insomma, una narrazione più dinamica e movimentata, come in Breaking Bad succede. Questa dinamica, secondo me, è in un certo modo riflessa dai protagonisti della serie e dalla tematica sulla quale è incentrata. Parliamo infatti di avvocati, di legge e tribunali, dove i tempi sono lenti ed ogni parola è importante. Lo stesso Chuck, il fratello di Jimmy, è tremendamente lento e noioso, uno dei personaggi chiave dei primi episodi. Provviera a questa cosa, secondo me, hanno unito le vicissitudini della storia di Better Call Soul e degli avvocati, chiamiamola così questa serie, alle vicende di Gus, Mike ed il cartello, che comunque rimanda molto di più a Breaking Bad, rievocando quell'effetto nostalgia sia come personaggi che come dinamiche, visto che nella linea spaziale del cartello, la chiamerò così nel video, vedremo ovviamente più azione, situazioni spinose ed in generale più sangue. Attenzione, non sto dicendo che sia stata inserita solo per quel motivo, anzi la genialità sta anche nell'averla inserita unendo l'utile al dilettevole. Quindi anche per poter spiegare tutti retroscena di personaggi come Mike, Gus e Sochi. Ed a proposito di questo, e di genialità, è proprio da qui che la serie di Better Call Soul si sviluppa e prende vita. Grazie alla famosa scena dove Soul viene rapito da Jesse e Walt in Breaking Bad e chiedendo chi li avesse mandati, ecco che fa i nomi di Lalo e Ignacio. Comunque, a proposito di Ignacio, la cosa assurda è che io, non so da quale remoto angolo del mio subconscio, ero fin troppo sicuro di averlo visto in Breaking Bad, vi giuro che avevo un volto troppo familiare. Infatti durante Better Call Soul, vedendolo cacciarsi in situazioni disperate, al limite, mi lasciava comunque sempre un allone di tranquillità perché sapevo che ne sarebbe uscito. La stessa scena dove viene ucciso mi ha sconvolto. Io ero super sicuro di aver visto Nacho su Breaking Bad, quindi di conseguenza che se la sarebbe cavata. Vederlo invece cadere con un colpo alla testa mi ha sconvolto. E in realtà è stata una piacevole sorpresa perché mi ha dato quel magone in più che in questa serie è raro che venga evocato rispetto a Breaking Bad. Ecco, una delle cose che colpisce più di tutte in queste due serie è appunto, secondo me, l'argomento della morte. La morte non viene affrontata come in altri film o serie dove un personaggio muore e vabbè, capita, c'hai chi era, boh. Qui i primi personaggi ti vengono costruiti davanti, ti vengono eviscerati in tutte le loro sfaccettature, ti creano legami e poi, puff, uccisi, finiti. E lì ti rendi conto che quel personaggio, come se fosse nella vita vera, non lo vedrai mai più in tutta la serie. Unito questo alla recitazione magistrale degli attori che fa trasparire la vera e propria disperazione ed incredulità, ti creano un brivido che ti attraversa la schiena, ti arriva fino al cervello e ti fa dire, no, non ci credo, non può essere. Nemmeno tu da spettatore riesci ad accettare la loro morte dietro uno schermo. Magari anche un personaggio importante, come può essere Hank, una delle perdite più devastanti della serie. Gus o Mike, o la più devastante ed inaspettata in Better Call Saul, ovvero quella di Howard Hamlin. Ma prima di andare avanti, parliamo di personaggi. Sì, beh, perché è facile dire, eh, Skyler è una puttana, Walt è un grande, oh no, povero Jesse, non ti meritavi questo. Ma parliamo invece di personaggi che, nonostante un ruolo leggermente più secondario, ci abbiano, o almeno a me, lasciato un'impronta dentro. Penso che uno dei modi con la quale Vince Gilligan ha cercato di farci affezionare i personaggi sia tramite le sofferenze che questi hanno passato. E a sto punto, Nagio sia quello che credo ci può stare più simpatico in assoluto. Se voi riguardate la serie, non c'è una sola scena dove quest'uomo abbia un po' di legeresse. Inizia la serie e lavora per quello psicopatico di Tuco, rischiando di essere ammazzato ogni giorno che passa. Deve mediare tra suo papà ed Hector, evitando una strage familiare, ovviamente con suo papà costantemente contro di lui. Riesce a togliere di mezzo Hector, ed ecco quel simpaticone di Lalo. Ok, allora iniziamo a fare il doppio gioco e fingiamoci simpatizzanti del cartello. Ma sì dai, adesso percorriamo pure un intero deserto a piedi, solo per poi prenderci due pallottole e sfiorare la morte. E tutto questo per, alla fine, essere un capro espriatorio da uccidere davanti al cartello. Cioè ragazzi, se qualcuno ha voglia di iniziare a spacciare, fategli vedere la storia di questo povero uomo. Sì, ok. Skyler è una stronza. Chuck potrà anche essere odioso. Tuco è un po' pazzo e a volte ammazza cristiani. Ma Todd, che cos'ha che non va quest'uomo? Hai dei sentimenti fottuto pazzo? Se i protagonisti si disperano per la gravità e le conseguenze delle loro azioni, beh, Todd è lì. Ho ucciso un bambino in sella di una moto senza neanche pensarci? Ah, sì. Ho lasciato un bambino senza madre uccidendola davanti alla persona che più gli voleva bene? Ah, beh. Cosa ha che non va? Hai tolto tutto quello che potevi di una persona che non ti ha fatto nulla e te lo porti dietro come se fosse un cagnolino e poi ci parli da una buca alta 3 metri come se fosse un tuo collega di lavoro. Insomma, questo personaggio potrebbe benissimo finire nella top 1 dei personaggi più infami in un video di Pisk. Enche, ok, l'abbiamo capito che sei il più figo, il più audace, però adesso per favore metti da parte l'orgoglio. Uccidiamo sto tipo e andiamoci a casa insieme, sistemiamo tutto, invece di pagare con la tua morte i sensi di colpa che Walter si porterà dietro a vita. Ecco qui un altro punto focale delle due serie. Molto spesso viene menzionato il sistemare le cose, quando i protagonisti vanno troppo oltre con le loro azioni. Ma in Breaking Bad con la morte di Hank e in Better Call Saul con la morte di Howard viene ribadito e sottolineato come il tornare indietro sia ormai impossibile. Queste due situazioni, se ci fate caso, sono rispettivamente simili. In un qualche modo sono collegate da un tunnel spazio-temporale tra le due serie. Se ci fate caso per entrambi i rispettivi protagonisti, queste due perdite non sono causate da loro direttamente. Perché mai lo avrebbero voluto? Sì, magari gli stava un po' antipatico, odiavano questa loro nemesi, ma non volevano di certo ucciderla. È come quell'amico con cui rivaleggiate che, sì, beh, mi fa antipatia, è uno stronzo, certo, per carità, ma non lo vorrei mai morto. Ecco, è proprio qui che i due protagonisti arrivano a capire che le loro azioni sono andate davvero troppo oltre, arrivando a coinvolgere persone vicine a loro che non c'entravano nulla. E da qui nasce il famoso, le cose non si possono più sistemare, che personalmente ogni volta che sentivo e che pensavo e associavo alla situazione, mi faceva riflettere davvero un sacco e sentire in colpa come se fossi io in quella situazione. Anche per la morte di Walt, la scena conclusiva di Breaking Bad è stata la stessa cosa. Certo, lì te lo aspetti ormai, speri fino all'ultimo che venga arrestato dalla polizia per non lasciarlo morire lì, ma mentre guardi gli ultimi dieci minuti le speranze iniziano a cadere. Stessa identica situazione per il finale di Better Call Saul. Mentre guardi l'ultimo episodio ti trovi davvero a che fare con la vera e propria fine. Continui a guardare il minutaggio sperando che ci sia ancora del tempo dove si possa trovare un'altra soluzione rispetto a quella dove tutto l'episodio ti trascina per tutto il tempo, ovvero l'arresto di Jimmy. Ma alla fine tutto va come deve andare. Ecco, a proposito del finale di Better Call Saul, una cosa che non mi è piaciuta tanto e mi ha lasciato anche un po' di confusione è stata tutta la vicenda che si è conclusa negli ultimi tre episodi in modo un po' troppo veloce, secondo me. Ti trovi ad assaporare fin troppo poco della nuova vita di Jim o di Kim e certo non era facile fare diversamente, è chiaro, perché la serie parte con una linea temporale precedente a Breaking Bad e poi finisce con un sequel per chiudere tutto il cerchio. Con qualche collegamento vero e proprio, come ad esempio la scena dove Saul va a trovare Walt a scuola in Better Call Saul, anche se cambia colore di gravata da una scena all'altra. Oppure la scena del divorzio tra Kim e Saul, dove subentra anche Jesse. A proposito, penso che tutti ci aspettavamo di rivedere Walt e Jesse in Better Call Saul. Personalmente quando ho saputo che l'episodio 11 si sarebbe chiamato Breaking Bad ero troppo felice di sapere che sarebbero ricomparsi, però mi sono fatto sicuramente un po' troppe aspettative. Non fraintendetemi, ci sta l'unione della scena del sequestro di Saul tra le due serie. Immagino tra l'altro per omaggiare la famosa scena dalla quale è quasi nato Better Call Saul. Però avrei preferito qualche tipo di avvenimento esclusivo che in Breaking Bad non si è visto, una nuova scena o qualcosa di questo tipo. Comunque, tornando al discorso finale, sono sicuro che questa serie, a me, come a tutti voi altri, ha lasciato dentro un magone, un voto incolmabile, come per Breaking Bad. Che anche in Breaking Bad, quando finì, ero disperato e non sapevo più che fare della mia vita. Desideravo perdere la memoria per poterla riguardare e provare di nuovo le stesse emozioni. Però in Breaking Bad, ecco, vengono lasciati degli spirali aperti. Dopo la morte di Walt, Jesse è scappato, Saul appunto è sparito. Insomma, queste cose hanno permesso la creazione di El Camino o di Better Call Saul. Il finale di Better Call Saul, invece, è conclusivo. Tutte le vicende rimaste aperte nell'intera saga vengono definitivamente chiuse. E sapendo che Saul ha 80 anni di prigione davanti, siamo sicuri che non ci potrà mai essere un proseguimento su di lui. A meno che, ad esempio, in un eventuale sequel, lui non riesca a scappare e creassi una nuova vita. Ci ho pensato e sperato per un attimo, perché non è come Walt che è morto ed è finita. Ma non ci sarà sicuramente un'altra sua apparizione. È chiaro che sarebbe troppo forzato. Intanto per il personaggio, che ormai, e secondo me, ha dato tutto ciò che poteva dare. Qualsiasi altra trama scritta su di lui sarebbe scarne, superflua e non adatta. E poi anche per una questione più morale, perché nell'ultimo episodio la maschera di Saul cade, lasciando il posto a Jimmy, che capisce che restare in prigione è l'unico modo per evitare a se stesso di combinare casini e disastri. Ed è quello che lui vuole. Un'eventuale fuga praticamente farebbe cadere tutto il personaggio che si è creato. Detto questo, l'ultimo appunto che vorrei fare riguarda il finale, questa volta di El Camino. Il film di Breaking Bad che ho rivisto dopo aver finito Better Call Soul per non restare completamente orfano di questa saga. Questo penso sia stata una delle parti più criticate della saga di Breaking Bad. Il film parla di Jesse dopo essere stato liberato da Walt nell'episodio finale. E effettivamente l'ho visto come una mera continuazione della storia di Jesse, per dare anche a lui una degna sepoltura del personaggio. E anche qui Jesse non è morto. Potremmo aspettarci un sequel su di lui, visto che è anche giovane, un'intera vita da ricostruirsi davanti. Ma come per Better Call Soul non avrebbe senso. Purtroppo sono tutte teorie che da fan ci possiamo fare e ci vogliamo fare per avere una speranza di rivedere i personaggi a cui ci siamo affezionati. Non avrebbe senso un sequel perché anche Jesse è arrivato dove doveva arrivare. Al contrario di Soul che aveva quasi una malattia per le truffe e la criminalità, lui ci è finito dentro secondo me un po' nella sua innocenza, trascinato anche da Walt. L'unica cosa che voleva negli ultimi episodi era semplicemente ricominciare da capo. Ed è stato l'unico che ha avuto questa possibilità e farla buttare via il personaggio per un sequel inutile e forzato sarebbe brutto. E niente ragazzi, credo di aver parlato abbastanza. Anche per me fare questo video e parlarne in questo modo era un modo per convincere a me stesso della fine di questa splendida serie e darle una degna sepoltura. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se è diverso dai soliti temi trattati sul canale. Come sempre ditemi cosa ne pensate nei commenti e detto questo vi invito a seguirmi su Instagram. Vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.